Perché comprare il pesce da ilpescatoreonline.it? Perché il pescatore online cura tutto il processo logistico, portando il pesce fino alla tua cucina. E lo fa in 24 ore. Una realtà che assedia al mercato del pesce di Milano, dove si trova il più grande assortimento di pesce fresco, in grado di garantirvi oltre 190 prodotti disponibili. La provenienza garantita. Una catena del freddo che non si interrompe mai. Una qualità certificata a livello europeo. La scelta delle lavorazioni del prodotto. E poi, perché lo ricevi direttamente a casa tua. Hai ancora dei dubbi? Vai sul sito e ordina subito. ilpescatoreonline.it Fresco fino a casa tua.